Sono partito con l'Ellas Verona e ho fatto il ritiro là, poi comunque sapevo del contatto del Pescara che già anche un po' dall'anno scorso mi cercava così, poi vabbè io comunque ho fatto, pensavo al ritiro, poi dopo un po' mi hanno proposto qua e sono stato molto contento anche perché mi hanno parlato molto bene, comunque la società, l'ambiente, la città, una bella città, il tife e tutto, poi mi hanno parlato molto bene anche l'anno scorso che comunque Politano giocava con me, Piscitella, anche Padova, anche poi sono andati via comunque, lo stesso anche Fiorillo che lo conosco, quest'anno metto di venire che mi si è ritrovato sicuramente bene, comunque mi sto trovando bene e speriamo di fare tutti insieme un ottimo campionato. Ho fatto il ritiro, ho fatto abbastanza bene, comunque mi volevano là, poi aver trovato poco spazio, comunque ho preferito comunque venire in una città come questa, provare di giocare invece che comunque restare in Serie A e magari trovare poco spazio comunque. Cerco di mettercela tutta anche per arrivare lì, vabbè questa convocazione non mi ha convocato, però appena al ministro mi dà la possibilità di giocare io sono comunque il primo che ce la metterà tutta e combattere, comunque a livello personale è sempre bello andare in André 21, poi comunque devo concitarmi a fare bene qua, poi comunque i risultati si vedranno. Difensivamente sono migliorato molto, sto migliorando anche qua con il secondo mister, il mister proprio per la difesa, ci sta dando una grande mano. niente, vabbè alla fine si può migliorare in tutte, cerchiamo di migliorare in tutte le cose che facciamo, sempre con grande serietà e impegno, poi le cose verranno. Vabbè l'anno scorso comunque non siamo partiti, cioè avevamo una buona squadra rispetto ai tre anni della stabia, comunque era la squadra comunque più forte, poi comunque capitano le nate quelle storte, abbiamo avuto un po' di episodi sfavorevoli, proprio in tutti i sensi, è stato un anno peccato dai. Quest'anno sono venuto qua, proprio comunque una società ambiziosa, poi vediamo adesso come andrà, noi cercheremo comunque di fare un ottimo campionato, speriamo, speriamo bene. Peccato per il risultato perché potevamo vincere e adesso comunque sempre parlando bene la parità, la parità di contro il Bologna e cerchiamo di fare una gran partita e ottenere risultate, comunque la vittoria è sempre importante. Sì sì assolutamente, abbiamo visto, ha perso la prima, poi ha parecciato contro l'Entella, comunque hanno un organico molto importante a livello tecnico e noi comunque cercheremo di fare la nostra partita, siamo un po' in casa con i tifosi che ci dà. Adesso sto cominciando comunque a conoscere i ragazzi, alcuni conoscevo, altri no, però mi sembra un gruppo che comunque ci diamo una mano uno con l'altro, ci aiutiamo, non è che ognuno pensa a se stesso, comunque fondamentalmente la squadra comunque alla fine raggiunge la vittoria, non solo il singolo. E niente, obiettivi, noi pensiamo a partire dopo partita, i risultati quando verranno, poi a fine campionato vedremo il risultato che avremo ottenuto. Vabbè io 4-3-3, no, per me 4-3-3 perché proprio mi piace più partire da dietro, non sono proprio uno che, cioè mi piace più arrivare in corsa da dietro, mi trovo meglio, poi comunque il missio dove mi farà mettere sicuramente darò il massimo come ho sempre fatto. Vabbè innanzitutto cercare di far bene qua, poi raggiungere l'Under 21 e che penso comunque giocando qua, se mi darà l'occasione, se farò bene ci arriverò, quindi speriamo, speriamo bene dai, sono contento che comunque i miei compagni nazionali sono passati e che li abbiamo pure visti qua l'altra volta da pescare che hanno giocato e niente, speriamo, speriamo bene proprio per tutta la squadra, per tutta l'annata che verrà.